I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per estorsione un 43enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha minacciato un edicolante del posto. Voleva del denaro e se la vittima non gli avesse consegnato i soldi avrebbe dato fuoco al suo negozio. Il commerciante ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono immediatamente intervenuti e bloccato il 43enne. L'arrestato è in attesa di giudizio.